Mamma mia ragazzi, Atalanta prima in classifica da solo, la Dea che vola prima in classifica e finisce così la partita dello stadio Brianteo di Monza L'Atalanta che batte il Monza 2-0 si porta prima in classifica, primo gol in Serie A per il giovanissimo Juland Juland che è paragonato a Oland ragazzi, ma che giocatore è l'attaccante danese giovanissimo tra l'altro, 19enne ragazzi, è un classe 2003 Ma che giocatore è ragazzi, l'Atalanta con Lukman e Julman con questi due giocatori ha davanti un futuro idilliaco perché sono due giocatori giovanissimi Anche Lukman è un classe 1997, anche lui 24enne, veramente, ma che giocatore è, ma che giocatore è Lukman ragazzi, è un giocatore spaziale Dappertutto stava, dappertutto, ha fatto l'assist decisivo del gol e poi anche il tiro che poi ha portato l'autogol di Marlon Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappiaz, oggi siamo in un nuovo video, siamo appunto qui a Giappiaz Scusate nel commentare il post partita di Monza-Atalanta e finisce 2-0 per l'Atalanta Ma questo Monza ragazzi, poca roba, qualcosina nel primo tempo a voi, poca roba Effettivamente è una squadra che con questo calciomercato che ha fatto si pensasse una squadra che potesse una salvezza tranquilla Magari, invece niente ragazzi, secondo me stroppa la panchina in stroppa, incomincia a scottare Sarà uno dei primi allenatori a cambiare panchina secondo me, questo è il mio pronostico che faccio Mi dispiace perché Monza è una squadra che l'anno scorso ho seguito molto in Serie B, è una squadra che stimavo Però purtroppo non va, stroppa, io l'ho detto sempre, non è un allenatore da Serie A secondo me Mentre l'Atalanta ragazzi, Gasperini che non ha le coppie quest'anno si sta togliendo tante soddisfazioni Adesso addirittura prima in classifica da sola ragazzi, dopo vado a dire la classifica Con tanti gioiellini come Luckman, Anderson, Yulmand, Soppi, ragazzi che giocatore è pure Soppi, mamma mia Vi ricordo di lasciare un mi piace, un bel commento, una bella condizione se no vi iscrivetevi al canale Attivate la campagna per rimanere sempre aggiornati qui sotto Quindi fatemi la vostra con un commento Se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campagna per rimanere aggiornati tutta la settimana Recuperate i scorsi video che trovate qua sopra nelle schede Cliccate qui e recuperate il post party della Roma, live reaction, i video di ieri insomma E fatemi sapere la vostra Parliamo innanzitutto della partita che è stata della giocata dei singoli, vero e proprio Diciamo che nel primo tempo, come ho detto, è una partita abbastanza equilibrata In cui il Monza non ne aveva sfigurato contro... Diciamo stava giocando bene, poi nel secondo tempo secondo me è crollata Che è stato proprio un cambio di rotta dell'Atalanta che già stava facendo bene nel primo tempo E poi, allora, si sblocca appunto il primo gol dell'Atalanta, arriva al cinquantasettesimo Gol di Winter Huland Huland Attaccante danese, giovanissimo In classe 2003, 19enne Giocatore immenso Palla perfetta di Lukman C'era un presunto fuorigioco che però è stato rivisto al VAR Perché Huland non era in fuorigioco Ma forse Lukman poteva essere in fuorigioco In realtà viene rivisto poi al VAR E non era ovviamente fuorigioco E viene convalidato il gol Quindi 1-0 Atalanta E poi praticamente dopo neanche dieci minuti Dopo otto minuti arriva il gol del raddoppio Anche qui discesa sempre da parte dell'Atalanta Lukman che si inserisce Sulla palla in mezzo Huland Mette il pallone in mezzo Dopo aver fatto il gol Mette il pallone in mezzo Non mi ricordo se era Huland Vabbè comunque pallone in mezzo dell'Atalanta Mi ricordo chi è che aveva servito il pallone in mezzo Se era Henderson o Huland Se inserisce Lukman Il tiro però viene sporcato da Marlon E quindi diciamo è autogol Perché l'ha buttata dentro Marlon Quindi autogol del difensore del Monza E raga è l'Atalanta che aveva avuto possibilità anche di fare il 3-0 tranquillamente Però comunque c'è stato un tiro di Scalvini parato da Di Gregorio Ci sono state diverse occasioni Comunque il Monza che termina con 0 redi all'attivo È una squadra che sta veramente sul gradicolo Noi vado a leggere la classifica Andiamo a vedere la classifica di Serie A attualmente L'Atalanta prima a 13 punti Secondo il Napoli a 11 Terzo il Milan a 11 Udinese quarta a 10 punti E poi c'è la mia Roma ragazzi a 10 punti E la Juve a 6 punti Sesta a 9 punti E l'Inter sempre a 9 punti Settima E la Lazio ottava a 8 punti Diciamo che la classifica è molto Sono squadre come Udinese e l'Atalanta Che sono le sorprese di queste prime 5 partite di Serie A Fatemi sapere la vostra L'Atalanta come si classifica? Perché io ho fatto il mio pronostico Se non avete visto la prediction che ho fatto inizio anno Andatela recupera Trovate nei video prediction di Serie A E trovate la mia prediction Fatemi sapere come vedete Quest'Atalanta classificata a fine anno Io le ho messi comunque Non vi dico niente Non faccio spoiler Andate a vedere la mia prediction Tanta roba Tanta tanta roba Mentre dall'altra parte Hanno giocato anche Salernitana Empoli E finita 2 a 2 Però Non farò questa analisi oggi Fatemi sapere la vostra E niente Da qui è tutto E noi come al social E un prossimo Ragazzi sempre comunque Forza il calcio Mamma mia che dea Mamma mia che dea Complimenti a Gasperini Ciao ragazzi Vamos Ciao ragazzi Ciao ragazzi